no al tunnel fontana buona presidio sotto il municipio di rapallo il comitato contro l'opera prosegue la propria battaglia e annuncia un presidio sotto il palazzo comunale rapallese per il 22 ottobre alle ore 10 il comitato evidenzia inoltre come il costo di 300 milioni di euro sia destinato a lievitare in un momento dove le famiglie fanno carte false per pagare le bollette come facciamo si domanda il comitato a stare in silenzio davanti a tutto questo il comitato contro il tunnel della fontana buona prosegue la sua battaglia contro l'opera e annuncia un presidio sotto il municipio di rapallo per il 22 ottobre guardatela ora la collina di rapallo perché prossimamente non la vedrete più lascerà spazio ad una nuova inutile cementificazione scrive in un post su facebook uno dei promotori del comitato andrea carranante più di un milione di metri cubi tra terra e roccia verranno portati via sbancati con esplosivo per lasciare spazio ad un progetto scelerato di autostrade realizzato senza gara d'appaldo da autostrade dato in concessione ad autostrade dove noi utenti pagheremo il pedaggio ad autostrade voluto da tutti i politici di maggioranza e fitta opposizione in comune a rapallo in regione liguria senza dare spazio a progetti alternativi conclude carranante il comitato evidenzia inoltre come il costo di 300 milioni di euro sia destinato a lievitare in un momento dove le famiglie fanno carte false per pagare le bollette come facciamo a stare in silenzio davanti a tutto questo l'appuntamento per chi è contrario all'opera e per il 22 ottobre alle ore 10 la giornata nera delle ferrovie in liguria non ha colpito solo le linee della riviera di ponente dove un furto di rami sui binari ha creato ritadi e disagi ma anche la linea della riviera di levante dove un guasto ad uno scambio a santa margherita ligure ha provocato gravi ritardi alla soppressione di due treni il guasto avvenuto attorno alle 10 di questa mattina sul binario in direzione genova ha coinvolto una freccia che ha subito 30 minuti di ritardo quattro treni regionali con rallentamenti fino a 20 minuti e altri due regionali che sono stati cancellati in parte del percorso I carabinieri del comando provinciale hanno arrestato un 28enne di nazionalità peruviana già aggravato da pregiudizi di polizia in seguito ad un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Genova Il sudamericano deve scontare tre anni di reclusione perché condannato per violenza sessuale reato avvenuto nel Tiguglio tra agosto e settembre 2020 Un sessantenne di nazionalità senegalese invece regolarmente in Italia è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Sestri Levante con l'accusa di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi L'uomo già aggravato di pregiudizi di polizia è stato fermato dai militari per un normale controllo e trovato in possesso di diversi capi di abbigliamento e borse con segni contraffatti La merce del valore di circa 1000 euro è stata sequestrata 100 grammi di eroina destinati ad essere spacciati nel Tiguglio sono stati invece sequestrati dai carabinieri di Arenzano I militari hanno fermato due 55 anni di Genova entrambi gravati da numerosi pregiudizi di polizia a bordo di un veicolo I due erano più volte stati notati in zone frequentate da assuntori di stupefacenti A seguito della perquisizione personale e domiciliare è saltata fuori la droga suddivisa in due involucri Ora i due devono rispondere dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Tre persone infine sono state denunciate nelle ultime ore dai carabinieri della compagnia di Sesservante e Santa Margherita Ligure Un romeno di 40 anni già aggravato da pregiudizi di polizia deve ora rispondere dell'accusa di futto aggravato ai danni di una turista polacca Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo avrebbe infatti rubato una bicicletta elettrica del valore di 3.000 euro che la donna aveva legato ad un palo posizionato nei pressi del lungomare di Sestri Levante Due donne francesi di 45-55 anni invece sono state accusate di aver rubato un bracciale Swarovski del valore di alcune centinaia di euro in un negozio di Portofino In entrambe le indagini i carabinieri hanno anche visionato le immagini dei sistemi di videosoveglianza sia pubblici che privati Dopo i successi di Blanche e di Hotel Portofino Genova è nuovamente protagonista di una fiction in onda su Rai 1 dal titolo Sopravvissuti Ma non solo, Genova compare anche su Sky che sta trasmettendo i nuovi episodi della serie TV Petra molto seguita e apprezzata I genovesi conoscono benissimo le bellezze della propria città ma siamo certi che il crescente interesse dei media nazionali per il nostro territorio sta per far innamorare anche milioni di italiani così ha commentato il sindaco di Genova Marco Bucci Viva Genova, viva la Superba Una nuova linea di trasporto pubblico locale ha chiamata a Borzonas che è stata inaugurata ieri e sarà attiva da lunedì al sabato esclusi i festivi Un servizio già operativo in Val Graveglia, nel comune di Nea e a Bargaglia e Davagna A Borzonasca cercheremo di fare tesoro delle prime due esperienze di Nea e Bargaglia e Davagna le quali si sono rivelate a tutti gli effetti delle buone pratiche e ci auguriamo che tutte e tre le sperimentazioni possano diventare strutturali per mantenere il servizio sui territori ha spiegato Giuseppino Maschio, sindaco referente delle valli dell'Antola e del Tiguglio Il bus a chiamata, attrezzato anche per il trasporto disabile, è un servizio a misura di chi vive nelle zone periferiche spesso persone anziane che non dispongono di mezzi propri per potersi spostare Il trasporto pubblico è essenziale per poter vivere e lavorare anche nel nostro entroterra La particolare conformazione delle aree interne impone di progettare una mobilità flessibile per rispondere in maniera efficiente alla domanda locale di trasporto ha sottolineato l'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti Il bus a chiamata a Bozonasca segue le sperimentazioni avviate nei comuni di Nebar, Gaglia e Davagna che ben si inseriscono nel pacchetto di risorse che come Regione Liguria abbiamo stanziato per il potenziamento dei servizi delle valli dell'Antola e del Tiguglio Per le prenotazioni si potrà utilizzare la app dei servizi a chiamata oppure telefonare al numero verde dedicato Proseguiamo con determinazione nello sviluppo dei servizi a chiamata che rappresentano la maggiore opportunità di miglioramento del servizio per il nostro entroterra ha concluso il presidente di AMT Marco Beltrami I risultati avuti finora ci incoraggiano a proseguire nella ricerca di aree dove sia possibile e sostenibile valutare questo modello di servizio Dall'inizio di questa settimana è tornato a Santa Margherita Ligure il servizio di trasporto sociale un pulmino per garantire alcuni brevi spostamenti urbani ai cittadini di età avanzata non autonomi nei quartieri degli Olivi e San Siro Il progetto avviato l'anno scorso è frutto di un accordo raggiunto tra il Comune e lo Spartello in forma disabili cittadino che mette a disposizione il mezzo Il servizio sarà sempre attivo la domenica e nei giorni festivi con partenza per l'andata nella piazzola di Via Camillo Sbarbaro nei presidi radicolo della Madonna di Montallegro nel quartiere degli Olivi alle ore 9.15 e ritorno da Piazza Mazzini nei presidi dell'oratorio a mezzogiorno Cittadini interessati dovranno prenotarsi telefonando ai numeri dedicati almeno 24 ore prima Ringraziamo Antonio Cucco e tutto lo staff dello Spartello in forma disabili per l'impegno profuso in questo servizio molto apprezzato hanno dichiarato il vice sindaco Emanuele Cozzi e l'assessore Beatrice Tassara Grazie alla loro disponibilità e cura riusciamo a fornire questo trasporto sociale integrativo pensato per San Siro e il quartiere degli Olivi Online anche il quarto video di promozione delle Creose di Chiavari un progetto realizzato dall'assessorato al turismo per valorizzare la rete sentieristica chiavarese caratterizzato da panorami mozzafiati sul Golfo e sul Primo Appennino il percorso delle 5 torri prende il nome dalle torri dei campanili di San Lorenzo, San Ruffino, San Michele in San Bartolomeo e San Tommaso del Culo il percorso di circa 210 minuti parte dal centro da salita a San Nicola nel quartiere di Rupinaro passando per la prima torre il castello di Chiavari si prosegue verso Monte fino al Curlo e al Bocco di Levi procedendo sulla strada carrabile fino alla cappella di San Lorenzo poi sul crinale tra le frazioni di Campodonico e Sanguineto dalla chiesa di Magena una ripida crosa porterà il quartiere di San Pio di Canne è possibile vedere il video sul canale YouTube, sulla pagina Facebook del Comune di Chiavari e sul sito internet www.chiavariturismo.it Dopo il maxi yacht di oltre 140 metri e un valore di 650 milioni bloccato ad agosto la guardia di finanza congelato Villa Altachiara la residenza di Portofino che fu della contessa Vacca Agusta e ora è di proprietà dell'oligalca russo considerato molto vicino a Vladimir Putin e inserito nella lista nera dell'Unione Europea il provvedimento disposto dal Comitato di Sicurezza Finanziare ed eseguito dalla Guardia di Finanza riguarda anche una villa a Roma un'automobile di lusso e il capitale sociale di una società di Portofino per un valore complessivo di 57 milioni di euro Sabato alle ore 21 un concerto del cantautore Fabio Concato aprirà il cartellone della stagione 2022-2023 del Teatro Sociale di Camogli nell'occasione l'autore milanese porterà nella cittadina del Golfo Paradiso il suo musico ambulante tour negli scorsi giorni la direzione del Teatro di Camogli si ha ufficializzato il programma degli appuntamenti fino al 31 dicembre si parte dalla musica alla prose tutte le domeniche a mezzogiorno nel ridotto del teatro si potrà partecipare ad un concerto aperitivo tra i vari appuntamenti il concerto di Gigi Telesforo del 14 ottobre l'omaggio ai Diff Piaf dell'11 novembre il concerto di Rossanna Casale del 16 dicembre e lo spettacolo di Capodanno Io, Lui, Le Show che inizierà alle ore 22 del 31 dicembre Un percorso musicale che dura ormai da dieci anni parliamo del festival Le Strade del Suono di cui Entella TV è media partner che continua ininterrottamente da tantissimi anni a credere nella cultura e nelle sinergie tra enti ed associazioni per promuovere la musica classica contemporanea una musica non sempre immediata ma capace di nutrire cervello e cuore martedì 4 ottobre questa sera sesto appuntamento della manifestazione fortemente voluta e diretta con maestria da Matteo Manzitti questa sera alle 18.45 l'appuntamento è presso il teatrino di Palazzo Lucale l'ingresso è di soli 8 euro sarà la volta di Stefano Bruno in concerto uno dei più promettenti violoncellisti del panorama nazionale è un classe 2000 si tratta del sesto appuntamento e fa parte del segmento Young Stefano Bruno appena 22enne come dicevamo attualmente è nella classe di Pieter Wiespelewi presso il Conservatorium Van Amsterdam in carriera ha suonato in diverse formazioni orchestrali e cameristiche riscuotendo ovunque consensi di critica e di pubblico l'appuntamento quindi è alle 18.45 di questa sera martedì 4 ottobre al teatrino di Palazzo Ducale una buona giornata la vostra meravigliosa Tigulio non ha vinto il titolo di Capitale Italiana della Cultura abbiamo visto quel meraviglioso logo che avevate fatto voi però se adesso lo vedete con tutto lo sport attorno penso che sia ancora più bello perché voi siete una regione per lo sport outdoor per lo sport per il turismo per lo sport per i cittadini lo sport per tutti lo sport per un turismo internazionale nazionale il successo incredibile del Tigulio già quest'anno i dati che hanno dato sono di grande successo e sicuramente l'anno prossimo sarà una bomba tra le manifestazioni e gli eventi che saranno fatti in più da ogni piccolo comune o grande comune dagli eventi che ci saranno creeranno quel finanziamento al turismo e allo sport importantissimo una comunità come la vostra ha tutti gli attu per non vincere ma secondo me per stravingere e devo ringraziare sentitamente tutti gli amici che hanno collaborato tutti i sindaci e prima di tutto il sindaco di Lavagna che si è subito detto io sono pronto quindi questi 35 municipi che parteciperanno a questo evento saranno un successo incredibile per un richiamo turistico sportivo per il benessere e la salute dei cittadini ne siamo a disposizione e vi aspetteremo spero il 5 dicembre alla sala plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles dove saranno consegnate le bandiere a più di 100 municipi comunità capitali europei dello sport city, town e speriamo che ci sia ovviamente anche il Tigurio la visita della commissione sarà a giorni la settimana prossima saranno 5 membri di 5 paesi differenti ma sicuramente si innamoreranno tutti del Tigurio quindi non vi preoccupate ah è il Golfo Paradiso ci mancherebbe Recco è già comune europeo dello sport Recco è l'anticipo di tutto quindi ha anticipato Recco il Tigurio e quindi siamo convinti e siamo orgogliosi perché sono italiano di portare questa comunità del Tigurio Paradiso a essere riconosciuta dal Parlamento europeo e dall'UNESCO il 5 dicembre al Parlamento europeo Anche quindi da parte di Regione ci fa piacere essere presenti in questa giornata che per voi è l'avvio di un percorso importantissimo di promozione del territorio e dello sport come è stato detto a voi è capitato di essere propedeutici a un percorso poi a cui segue Genova capitale europea dello sport 2024 e l'anno successivo ci stiamo candidando come Regione Liguria quindi noi stiamo partendo già con un'attività a capo dell'assessorato allo sport l'avvocato Simona Ferro in sinergia con CONI, CIP e tutte le realtà come sport salute per riuscire a promuovere tutte le realtà sportive a valorizzare sia le caratteristiche diciamo impiantistiche importanti nella nostra regione quali anche le realtà di tipo territoriale ambientale gli sport outdoor e promuovere possibili manifestazioni nell'anno 2025 la cosa importante quindi è fare sinergia quindi combinazione in una serie di anni uno dietro all'altro più realtà territoriali Liguri si candidano per avere un ruolo e un titolo riconosciuto quello che volevamo fare appunto era raccogliere e mettere al centro il comprensorio al centro dell'Europa in questo caso e quindi dare il giusto valore allo sport e al tempo stesso valorizzare il territorio e tutti i comuni coinvolti in questo contesto abbiamo realizzato questo dossier proprio in un'ottica di personalizzazione in quanto ogni comune potrà poi prendere il documento e potrà richiedere una modifica in maniera tale che venga creata una premessa che descrive il comune di riferimento dopodiché ci sarà tutto un approfondimento sugli sport che possono essere fatti all'interno di quel comune e nei comuni eventualmente limitrofi in maniera che diventi un vero strumento che possa essere anche auspicio per un percorso di condivisione anche con gli altri comuni perché quello che riteniamo sia anche fondamentale attraverso lo sport è comunicare il valore del team quindi se si fa squadra se si riesce a essere a fare fronte comune su un obiettivo che coinvolga tutti e questo sicuramente porta dei risultati e porta un vantaggio anche non solo in termini di di turismo e di accoglienza ma anche proprio di senso di appartenenza al territorio e quindi ci rende tutti più forti e quindi qualsiasi cosa che andiamo a comunicare diventa molto più più forte dal punto di vista diciamo della comunicazione l'idea è quella di renderlo anche interattivo quindi attraverso questo dossier creare un portale web dove le persone possano il turista interno o il turista che viene da fuori può accedere e andare a cercarsi lo sport i percorsi e i riferimenti che possono essere gli utili per seguire l'attività sportiva che lui preferisce io volevo solo dirvi che visto il grande successo che ha ricevuto un video messaggio a supporto alla candidatura della Val d'Aosta all'European Original Sport 2023 proverei anche a mandare un messaggio a favore e a sostegno alla candidatura dell'European Community for Sport di Guglio Golfo Paradiso so che la commissione sarà sul posto dal 15 al 17 settembre sono luoghi meravigliosi gente seria amanti dello sport solo per dirvi un abbraccio viva lo sport viva l'Italia viva Tiguglio Golfo Paradiso un abbraccio forte e affettuoso al mio amico il grande Rimpò grazie a tutti